Sì, e cosa pensano? No, non pensano. Hanno preso atto che c'è una macchia giallo-marrone nel mare. Avevano mandato un gommone per i rilievi in mare, ma gli ho segnalato che nei minuti mi facessero all'argo in quanto dovevano via sotto costa. Hanno mandato un aereo che ha fatto adesso i rilievi fotogrammometrici dall'alto per vedere qual è la situazione e poi fare le loro indagini. Certo è che è un po' tardi per intervenire quando il materiale è già solo a battiglia. Pensano che scarichi? Cosa pensano non lo so, non ce l'hanno certo detto. Certo è che questo non è una fioritura algare comune, non è materiale naturale. Non è normale? No, neanche un po', questo è evidente. Io mi sono fatto bagnare i piedi e come sono uscito c'era tutta la pelle che mi prodeva. Qualcosa di strano è, insomma, non credo che sia acqua che viene dai fiumi interni o cose del genere. A meno che i fiumi interni non sono una discarica, anche voi lo potrebbero essere, però staremo a vedere cosa ci diranno.